Torna l'allarme Pestesuina a seguito di alcuni recenti casi in Piemonte e Liguria. È solo questione di tempo prima che arrivi anche in Abruzzo, fanno sapere dall'azienda sanitaria pescarese. Attualmente non abbiamo casi, ma sappiamo che prima o poi arriverà. Cosa si può fare per contenere questo virus? Allora, quello che sappiamo con certezza è che il virus si sposta di alcuni chilometri l'anno attraverso i suidi selvatici. I nostri amici cinghiali che oramai vengono anche a svernare, a passeggiare sulla riviera. E in pratica la loro presenza in aree dove sono presenti allevamenti sui nicole intensivi deve mettere in allarme. Quindi cosa possiamo fare? Innanzitutto proteggere gli allevamenti con recinzioni adeguate, con sistemi che impediscono il contatto fra le specie zootecniche e quelle selvatiche. L'altra cosa che possiamo fare è quella di tenere sotto controllo eventuali morti di sospetti di animali. Raccomandiamo alla cittadinanza, a qualunque titolo ovviamente, che si dovesse imbattere soprattutto in un cinghiale morto, ferito o che apparentemente non sta bene, di segnalarlo al servizio veterinario. La peste suina si diffonde da animale ad animale anche tramite le carni lavorate in cui il virus continua a sopravvivere. La peste suina non rappresenta alcun rischio per la salute umana. Per l'uomo il danno è economico, in quanto le normative per circoscrivere la malattia prevedono, qualora ci fosse un caso di peste, l'abbattimento di tutto il bestiame. E' questa che è una malattia che non ha alcun interesse per la popolazione umana, perché è di esclusivo interesse zootecnico. Chiaramente, diciamo, cosa significa questo? Significa che un paese come il nostro, che vive in certe situazioni, in certi contesti, soprattutto dell'esportazione, della lavorazione delle carni suine, basti pensare a realtà quali il prosciutto di Parma, per esempio, o la mortadella, o il prosciutto di San Daniele, per dirne alcuni, l'arrivo ipotetico di una malattia del genere fa drizzare i capelli.